no ma come dire che poi volteremo il giudice di testa massaggeranno e da due guaggi due accogliamo ancora un applauso sulla pista di oro ai Tommaso in categoria in baglio romi in categoria naturalmente Tommaso, romi, tasi sta a portare la gianera assa che l'urta in categoria chiusa possono essere presenti con il numero minimo al comando con il numero 600 euro vai Tommaso vai Tommaso vai Tommaso vai Tommaso vai Tommaso vai Tommaso diciamo solamente le due società di 100 euro vai Tommaso vai Tommaso vai Tommaso vai Tommaso vai Tommaso vai Tommaso